Benvenuti, cari followers, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle zone interessate da temporali molto forti in Italia domani sera, giovedì 14 settembre 2023. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti condividiate questo video con il maggior numero possibile di italiani per evitare danni, a causa del maltempo, e inoltre non dimenticate di supportarci e motivarci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche, poiché aiutarti a evitare condizioni meteorologiche improvvise. Restano quindi stabili le previsioni del Centro Meteorologico Europeo, che prevede temporali molto forti per domani sera, giovedì, nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia. Queste tempeste si attiveranno all'improvviso, con periodi intermittenti di stabilità e anche in aree molto difficili da determinare con precisione. Inoltre questi temporali porteranno con sé maltempo, forti piogge, grandine di medie e piccole dimensioni, e forti venti. Per quanto riguarda le zone interessate dalla pioggia domani sera, giovedì, sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna. La quantità di pioggia prevista potrebbe superare la barriera dei 50 mm fino a venerdì, soprattutto all'estremo nord. E non ci sono altre novità importanti, cercheremo di aggiornarvi più tardi e, alla fine, di restare in salute.